Le vacanze estive sono ormai giunte al termine e a Firenze il traffico comincia a bloccare alcune zone della città, in particolare quelle dove insistono i lavori come in Piazza della Libertà, dove Publiacqua sta lavorando per la sostituzione della tubazione dell'acquedotto. Qui c'è stato uno stop dopo il ritrovamento di reperti archeologici. Domani io incontrerò il soprintendente Pissina, come avevo già annunciato in passato, e farò presente i problemi della città, perché se da un lato capisco le esigenze dei saggi archeologici, della soprintendenza, dall'altro però c'è una città che deve andare avanti, c'è una città che deve vivere, c'è una città che si muove e quindi le esigenze di tutela del patrimonio storico-artistico devono assolutamente andare insieme alle esigenze della città, dei lavori pubblici, delle opere infrastrutturali. Tra l'altro con il PNRR queste opere pubbliche devono essere realizzate inevitabilmente entro termini stabiliti, 2023 appalto delle opere, 2026 realizzazione e rendicontazione, quindi rischiamo anche di perdere i soldi. Lo dico senza polemiche, domani ne parlerò col soprintendente e cercheremo una soluzione per Piazza Libertà. Per far defluire il traffico il sindaco lancia un appello, prendete i mezzi pubblici. Approfittando del bel tempo, usare il più possibile mezzi come biciclette che quindi sono non solo ecologici ma sono anche sicuri dal punto di vista della pandemia, evitare laddove è possibile di utilizzare l'automobile e avere più fiducia nel mezzo pubblico perché i nostri mezzi sono completamente sanificati, parlo sia del trasporto urbano che di quello extraurbano, perché altrimenti con l'inizio delle scuole rischiamo davvero un congestionamento non solo dell'area urbana fiorentina ma anche di tutta l'area extraurbana.